Sistema. Personalizza il tuo impianto come preferisci. All'interno della sezione Sistema è possibile gestire tutti i comandi presenti nei vari ambienti. Per eseguire un comando, toccare l'icona relativa. In questo modo si apre la barra di comando inferiore dove è possibile gestire le singole funzionalità che saranno differenti a seconda della tipologia di comando selezionato, come ad esempio le luci, le motorizzazioni, il termostato, il proprio amplificatore o gli elettrodomestici. Tenendo premuta un'icona o cliccando con il tasto destro del mouse è possibile gestire le opzioni di ogni singolo comando, tra cui la programmazione oraria e le statistiche. Attraverso la barra delle opzioni è possibile personalizzare ogni ambiente, ad esempio cambiando la disposizione delle icone nell'ambiente in cui ci si trova. Tenendo premuto il dito su un'icona o cliccando con il tasto destro è possibile accedere a un ulteriore menu di personalizzazione. Personalizzare ogni icona significa poter cambiare il nome, la grafica, le dimensioni. piuttosto che spostare o copiare un comando da un ambiente all'altro attraverso le funzioni copia e incolla. all'interno dello stesso menu è possibile scegliere se mostrare o nascondere il nome di ogni singolo comando. iscriviti al tommo